Sono Giorgio e ho dato alla campagna elettorale della Calabria la stessa importanza e ho dedicato lo stesso tempo che ho dedicato alla campagna elettorale dell'Emilia-Romagna perché è vero che l'Emilia-Romagna è ovviamente un test nazionale per le ragioni che conosce Al contrario di Salvini che sa solo in Emilia Beh no, anche lui è sceso devo dire in Calabria, però in ogni caso, insomma per me la Calabria è particolarmente importante perché in ogni caso, se poi si guarda il futuro di questa nazione, diciamoci la verità, senza uno sviluppo adeguato di alcune regioni del sud Italia prima e tra tutta la Calabria, questa è una nazione che non ce la può fare per cui le elezioni in Calabria sono delle elezioni importantissime e anche oggi siamo qui a fare i nostri giri come ci siamo tutto l'anno in una regione che tra l'altro a Fratelli d'Italia dà sempre grandi soddisfazioni Allora Meloni, la ferma un attimo, poi ci torniamo sulla Calabria e sul sud perché è un tema importantissimo però lei capisce bene che oggi c'è il tema del giorno, che sono le dimissioni di Luigi Di Maio Lei ha fatto un tweet che ho qui davanti Zingaretti tenta di nascondere il PD Di Maio si dimette da capo politico del Movimento 5 Stelle Assistiamo alle battute finali di un governo fantoccio nato nel palazzo al solo scopo di non far decidere gli italiani da chi essere rappresentati Fratelli d'Italia non starà in silenzio, elezioni subito Ma neanche un bricio di comprensione per questo travaglio umano di Di Maio dopo un periodo così difficile, mollare il Movimento, insomma anche l'onore delle armi forse Guardi l'onore delle armi a Di Maio lo avrei dato se si fosse dimesso da ministro non se si dimette da capo del Movimento 5 Stelle perché vede l'operazione che Di Maio, anzi che il Movimento 5 Stelle sta cercando di fare è il famoso tutto cambia perché nulla cambi cioè facciamo finta di cambiare i nostri partiti per questo l'operazione di Zingaretti sul PD la considero abbastanza speculare cioè noi facciamo un po' di movimento nei partiti facciamo, ci vendiamo come qualcosa di nuovo e di diverso così rimaniamo abbarbicati al potere e al governo della nazione Allora, se queste persone sono veramente consapevoli del loro fallimento quello che dovrebbero fare è consentire agli italiani di scegliersi il prossimo governo dovrebbero consentire agli italiani di votare perché altrimenti le dimissioni da capo del Movimento politico ma non ha maggioranza in Parlamento, quello conta e non si sembra parlamentare certo, 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 beh insomma conta fino a un certo punto perché conta anche il fatto che il sentimento del popolo italiano sta da tutt'altra parte io insisto nel dire che questo fatto che la democrazia parlamentare significa che io con i voti dei cittadini presi dichiarando che avrei fatto A, B e C poi ci faccio quello che mi pare, cioè l'esatto contrario di quello che ho promesso io non sono d'accordo su questa lettura della Costituzione italiana e non sono d'accordo sul fatto che invece non sarebbe più rispettoso della Costituzione italiana sciogliere le camere e andare a le elezioni anticipate Allora mi faccia capire bene, quindi lei mi sta dicendo mi scusi per capire bene il suo ragionamento lei mi sta dicendo che quindi se il centrodestra dovesse vincere sia in Calabria che in Emilia Romagna soprattutto in Emilia Romagna perché non ci possiamo nascondere e quello è un voto altamente politico mentre quello della Calabria è rimasto per il momento un voto più locale lei pensa che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe sciogliere le camere e dire perfetto è cambiato il sentimento nel paese dovete fare una mozione di sfiducia, dovete vincerla questo sicuramente sì, non è che Mattarella può sciogliere le tecniche della Costituzione non è un tema parlamentare io penso a norma di Costituzione e non lo dico io guardi vi prendete istituzioni di diritto pubblico di Costantino Mortati membro dell'Assemblea Costituente uno dei principali giuristi italiani dice nel libro scritto da lui che si insegna che si adotta nelle nostre università che l'istituto dello scioglimento anticipato delle camere è esattamente lo strumento del quale il Presidente della Repubblica dispone quando dovesse ravvisare che c'è una eccessiva distanza tra quello che accade nel palazzo e il sentimento del popolo perché le elezioni in Emilia Romagna sono da questo punto di vista così significative perché mentre la Calabria è una regione nella quale c'è stata una normale politica dell'alternanza in questi anni, cioè ha governato il centrodestra, ha governato il centrosinistra l'Emilia Romagna fino a due anni fa nessuno prendeva neanche lontanamente in considerazione che potesse mai esserci un centrodestra non vincente ma competitivo per cui se anche i cittadini di quella che è la cassaforte della sinistra in Italia dicono che la sinistra la vogliono mandare a casa ma come altro lo devono dire gli italiani che questo governo non lo vogliono allora lì il Presidente della Repubblica ha uno strumento se Mattarella non prende atto di questo mutato sentimento e non scioglie le camere, secondo lei sbaglia? ha un comportamento di parte? secondo me, io gli chiederò di sciogliere le camere se dovesse vincere il centrodestra è quello che chiederò a norma di Costituzione poi al Presidente della Repubblica io non ho la pretesa di insegnare il lavoro al Presidente della Repubblica ma non condividerei una scelta diversa questo l'ho sempre dichiarato quello che penso poi ognuno fa quello che ritiene di fare mi pare che ce l'ha questa pretesa mi pare che l'onorevole Meloni ce l'ha questa pretesa ho la pretesa di avere un punto di vista questo me lo consentirete voglio aggiungere, io non sono un costituzionalista così no, mi scusi, io sto dicendo il mio punto di vista ho la pretesa di avere un punto di vista certo, il mio lavoro insomma, lei rispetterà comunque la posizione del Presidente ma posso dire una cosa? esponendo un punto di vista differente non ho la competenza, diciamo così potrò dire come la penso sulla base di quello con lei costruito della Costituzione italiana certo, però io non ho la competenza, diciamo di studi costituzionali dell'onorevole Meloni però in realtà il Presidente della Repubblica non deve fare assolutamente niente non è che lui si trova una scelta dopo il voto regionale se loro dicono che non c'è più una maggioranza in Parlamento io lo dimostro al Presidente facendolo cadere con un voto il Presidente non può intervenire sulla base di un voto regionale di che cosa? dovrebbe rispettare il sentimento del popolo finché, allora, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere quando non c'è più una maggioranza nelle Camere è una questione prettamente politica se non se ne potete andare una lasciamo perdere, poi voglio dire poi la politica è un'altra cosa si può anche dire che il Governo si deve dimettere e che dopo le dimissioni del Governo non c'è altra strada che la scioglimento questa è una posizione politica ma si può pretendere che quello fa il degredito di un voto regionale dovrebbe capitare qualcosa per cui il Governo va sotto in Parlamento insisto nel dire che il Presidente della Repubblica non è un banale notaio il ruolo del Presidente della Repubblica in Italia a norma di Costituzione non è il ruolo di un qualunque notaio che deve certificare se esiste o non esiste una maggioranza in Parlamento non è solo questo il ruolo del Presidente della Repubblica non secondo me ma secondo gente più preparata di me io mi rispondo soltanto a una domanda siamo in un sistema parlamentare o presidenziale? come si forma il Governo? con una maggioranza in Parlamento purtroppo è un sistema parlamentare perché io sono per il presidenzialismo ciò non toglie che le ho detto che a norma non di quello che penso io ma a norma della lettura della Costituzione italiana sul ruolo del Presidente della Repubblica e dello scioglimento anticipato delle Camere il Presidente della Repubblica se ritenesse potrebbe sciogliere le Camere ravvisato che c'è una distanza troppo ampia siderale tra il sentimento del popolo e il Parlamento perché è un elemento di garanzia il Presidente della Repubblica serve esattamente per questo chiaro? perché se dovesse esserci una distanza troppo ampia potrebbe intervenire questo dice ripeto mi dica una cosa invece da una lettura della Costituzione che mi sento di condividere ma posso portare un po' c'è la politica perché ho pochissimo tempo secondo lei il passo indietro di Di Maio indebolisce questo Governo cioè lei com'è la legge al di là di quello che accadrà in Emilia il fatto che come ha detto prima Polito il Movimento 5 Stelle in questo momento è acefalo e quindi il più grande partito che era presentato in maggioranza in questo momento in una fase di grande sbandamento li terrà ancora più uniti perché saranno più deboli e quindi dovranno restare uniti o invece sarà un problema? No, io credo che sia una spia diciamo di una condizione molto complessa che sta vivendo questo Governo ma infatti noi parliamo diciamo di lunedì dei risultati dell'Emilia Romagna ma io credo che la diciamo il lavoro di logoramento che questa maggioranza sta subendo e della quale è allo stesso tempo responsabile in realtà non porti molto lontano l'attuale Governo la ragione per la quale una delle ragioni per le quali i fratelli d'Italia non ha propri rappresentanti che hanno firmato il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari era proprio questo al di là del fatto che abbiamo votato quattro volte la legge e quindi per un fatto diciamo di coerenza non abbiamo poi sottoscritto il referendum per rallentare l'entrata in vigore di quella riforma poiché io penso che questo Governo alla fine abbia comunque le settimane o i mesi contati perché è troppa è troppa la divaricazione è troppa la incapacità di essere una squadra allora sarebbe stato secondo me meglio andare a votare direttamente col Parlamento perdonatemi saluto Giorgio Meloni che è stato a proseguire il suo tour in Calabria ha mostrato per la campagna elettorale mi dispiace voglio dire una cosa sul tassativo